se ho fatto male non capisco perchè facciamo la scelta giù guarda ok non mi dire che io mi devo buttare qua sotto? non mi dire che io mi devo buttare qua sotto? tu mi dici che io mi devo buttare qua sotto? non me lo dire salvo salvo ma di cosa era nato? da dove era nato? questo qua sono tutti i vari mostri che vengono da un'altra un altro mondo spazio temporale ok mi sono ammazzato come un idiota ok mi sono ammazzato come un idiota c'è 17 di salute fratture di minore entità attenzione segni vitali in condizione critica ok perfetto dove scacchio sto andando oh cavolo no 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 ah c'è acqua 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 becco però c'è tutta l'acqua io ho beccato il dura pietra sono fesso sì sono fesso sì acqua 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 qua c'è la testa del cadavere dai 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 su 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 co se è questa cosa è questa pistola questa è la mia fidanzata questa è la mia fidanzata ma non me piace a salire qua ora se non dire giu ciao dottor Sì, è morto Ah, su non si può andare Devo andare giù per forza C'è qualche galleria qua che devo andare Vedi qualche galleria, Tom? Oh no Vai C'è pure Oh capito Dove devo andare? Ma dai, l'ho trovato già No, no Faccio passo Sono stressato Sono C'è praticamente io Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Questo non è un gioco È uno stress Salva Uno stress Uno stress Non era qua Dove cacchio era? Ma dai E' qua E' l'ultimo secondo Che già sto sperando Sei proprio stronzo Veramente Sei proprio stronzo L'altro stronzo L'altra parte Cioè io praticamente Cercare cure mediche Eh sì, va bene Salviamo E' questa domanda E' questa domanda Questa pistola Vero? Vediamo Porca putregna assassina Mi si blocca sempre la registrazione Ok Mamma mia tutta Finita Ok Benissimo No Ecco qua Siamo in mezzo La cacca Salviamo Che dobbiamo La cacca Siamo in mezzo Grazie a tutti.